Grazie a tutti per essere presenti qui stasera. Abbiamo deciso di aprire qui a Benevento perché la città in cui siamo nate, dove siamo cresciute e unirla con Termoli sarebbe un collubio perfetto. Ovviamente non siamo arrivati qui da sole, ci sono stati due grandi rocce, i nostri genitori. C'è stata Fabiola, c'è stato Gianluca, c'è stata la Dio che ci hanno aiutato in questa grande esperienza. Grazie al sindaco di Benevento, Demacia Mastella. Grazie alla senatrice Lonardo. La loro presenza è indispensabile. E infine grazie al sindaco di Termoli, Francesco Roberto. Che insieme alla moglie Pira hanno anche loro collaborato per la riuscita di questo ristorante. facendo sì che, diciamo, tutte le nostre paure perché aprire un ristorante a questa età insieme non è stato facile. E diciamo che ci hanno aiutato anche loro. Quindi un grazie particolare va anche a loro. 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Oh, wow! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.